ancora una volta devo dire viva la satira viva la satira perché continuano a rompere i coglioni a quello della jalapas che ha fatto quella battuta ferocissima violentissima ma sempre battuta nei confronti di una persona malata che era malata di depressione e che poi è stata diciamo in modo si è parlato di suicidio in questa battuta ma risentiremo tutto vogliono addirittura che lo sponsor di quella trasmissione non sponsorizzi più la jalapas vi dovete vergognare era una battuta è satira non c'è nessuna considerazione non c'è nessun tipo di discussione sulla depressione viva la satira viva la jalapas non rompete il cazzo a nessuno e due